Fare impresa non è un'impresa. L'invito del Galfiordolivi ai giovani dei comuni di Terlizzi, Bitonto e Giovinazzo è chiaro già nel titolo del workshop sul nuovo piano bollenti spiriti dedicato proprio ai più giovani e che si è tenuto ieri al mat di Terlizzi. L'iniziativa, inserita nel cartellone di eventi di invasioni rurali, vuole spronare gli imprenditori del futuro a non temere di intraprendere un'attività economica. Un appello lanciato anche dall'assessore regionale alle politiche giovanini Guglielmo Minervini. Volenti spiriti è un invito a guzzare l'ingegno per valorizzare le risorse del territorio e molte risorse sono racchiuse proprio nei valori della terra, della ruralità. Il GAR fa proprio questo lavoro di valorizzazione delle risorse della terra e su cui secondo me serve proprio uno sguardo di innovazione, una capacità creativa di pensare alle cose che si possono fare magari riscoprendo vecchie consuetudini, le tradizioni, vecchi valori del territorio ma in modo moderno. Noi abbiamo una parte del nostro paese impaurita da quello che sta accadendo con la testa rivolta all'indietro. Una parte che mi sembra invece interpretata bene da questa generazione di giovani che ha la testa rivolta in avanti, curiosa nel capire quello che può accadere, non quello che è accaduto. Le istituzioni però devono fare il loro dovere e sostenere i ragazzi più intraprendenti come sottolineato anche dal sindaco di Terlizzi, Ninni Gemmato. Accettare la sfida, accettare le sfide che il tempo nuovo oggi ci impone perché una situazione di crisi che non coinvolge solo il nostro territorio, è una crisi di dimensioni e di estensione notevoli. In questo momento di crisi è chiaro che servono strumenti nuovi, idee nuove e forse anche obiettivi nuovi rispetto ai quali bisogna porsi con lo spirito giusto. Importanti sono a questo punto gli strumenti messi a disposizione dal Galfior d'Olivi. Noi abbiamo attivato diverse misure, in particolare quelle che hanno attirato soprattutto i giovani e anche le giovani donne, ma per meccanismi di bando, sono state la misura 312, quindi finanziamento per nuove micro imprese nel settore della commercializzazione, dei servizi alla persona e del tempo libero e anche dell'artigianato tipico locale, ma anche per esempio abbiamo avuto molte risposte da parte dei giovani, per esempio nella creazione di strutture di piccola ricettività, i cosiddetti bed and breakfast. Queste invasioni rurali speriamo diano un segno concreto di cambiamento su questo territorio, vogliamo essere accanto al territorio di Bitonto, Giovinazza e Terlizzi, come gruppo di azione locale vogliamo rompere un po' il ghiaccio tra istituzioni, regole, bandi, iniziative pubbliche e private, vogliamo essere accanto per chi ha delle ottime idee di cambiamento di questo territorio. Grazie a tutti.